Era un incubo orribile. Il volto di Ryan a vitrio, senza vita, usciva da un buio fitto d'inghiostro, sospeso a mezzo metro da me. Muoveva le labbra, senza proferire suono, ma riconoscevo lo stesso, tutte le sue accuse. Dai Giordano, raccontami qualcosa di te. Un argomento qualsiasi andrà bene, per adesso. Io, io non so veramente… Noi abbiamo bisogno solo di un inizio. Raccontami, sai che ti ascolterò senza giudicarti e che cercherò di capire insieme a te quello che hai dentro. Non è così semplice. Eh, lo so bene. E che tu ne sia consapevole è un grande valore. Significa che sei pronto a comunicare. Una parte di te urla, ti supplica di farlo. io… vorrei… perché… mi scusi dottore. Ma no, va benissimo. Solo ora cerca di calmarti un po'. Sì, calmarmi. Sì. Sì, calmarmi. Io mi chiamo Giordano. Ho cinquant'anni. Quindici anni della mia vita li ho trascorsi in carcere… perché ho commesso un omicidio. Sì, calmarmi. Sì, calmarmi. Sì, calmarmi. Sì, calmarmi. Sì, calmarmi. Sì, calmarmi.